Live! Oh, Corrado, Corrado Barazzuti in persona, eccoci Corrado. Siamo simili come abbigliamento, devo dire, anche come colori. Sambiamo fratelli, anche come cappelli, no? Abbiamo adottato la stessa pettinability, capito? Abbiamo un po' lo stesso taglio, esatto. Abbiamo un taglio, voglio dire, il mio è obbligatorio. Tu forse potresti fare un tentativo di crescita, non lo so. La decrescita felice. Io sono completamente andato ormai, voglio dire, ci sono proprio delle zone che rimangono vuote. Delle zone d'ombra. Guarda, ti do questa chicca che è collegata al tennis. Anni e anni fa io facevo una trasmissione in televisione su SkyTG24, parlavo di tecnologia, e a un certo punto nel periodo estivo sono andato in un villaggio, ok, a fare un po' di vacanza. A questo punto gioco a tennis in doppio con un mio amico, ci iscriviamo al torneo del villaggio. Io a tennis non sono capace, ma da ex giocatore di ping pong mi metto da fondo e topo di dritto, capito? Io corro e topo di dritto. Sono un tuo emulo dei vecchi tempi, corro e basta. Sono lì e alzo, alzo, topo. Va bene, questo diciamo che è un buon punto di partenza. Esatto, di durezza, di durezza. Mi metto lì e remo da fondo, no? E sono un combattente. Sto lì, devi uccidermi per portarla a casa. Chiaramente sono senza tecnica, rovescio, irrilevante, ma di dritto invece faccio dritto tutto campo. A questo punto arriviamo in finale nel torneo di doppio. Io e questo mio amico e io i due giocatori con cui dovevamo giocare eravamo andati a studiarli, entrambi, no? Io e lui e entrambi giocatori di ping pong, quindi molto agonisti di mentalità nonostante fosse un torneino amatoriale, no? Come puoi immaginare, non era il Roland Garros. Totale, prima di entrare in campo decidiamo di tagliarci a zero i capelli per entrare proprio in campo e essere al massimo attivi e cattivi e incutere timore. E allora entriamo in campo e vinciamo la finale di doppio super contenti. Da lì non mi sono mai più fatto ricrescere i capelli, perché ho detto guarda, sai cos'è? Me li tengo così, insomma. Non hai avuto più il coraggio di farteli ricrescere. Quindi vedi che puoi, insomma, puoi farlo questo dettaglio. Però sai, io non so com'eri tu come giocatore, però sai quando associ la vittoria a una cosa specifica. Hai detto, vedi mi sono tagliato a zero i capelli, vittoria nel doppio lo tengo come un segnale positivo. Hai ragione, hai ragione. Poi come dire, i giocatori sono un pochino così, cioè rifanno le stesse cose, no? Quindi non vogliono, quando le cose vanno bene non vogliono cambiare niente. Quindi mantenere, come non so, la stessa doccia, no? Negli spogliatoi, i giocatori. Ci sono giocatori che tendono, tendono a fare un pochino sempre le stesse cose quando le cose, quando non so, le partite vanno bene, quando si vince, no? Non si cambia la doccia, non si cambia la maglietta. Cioè quella maglietta si lava, vuol dire, però si usa sempre quel completino fino a quando non si perde. Quindi uno si taglia i capelli a zero e va avanti così. Fognini non l'ha fatto. Fognini ha vinto un torneo, si è rappato a zero, però dopo se ne ha fatti ricresci. Ha vinto lo stesso. Ha vinto lo stesso. Vabbè, Fognini ha un braccio, ha un braccio dorato. Ho visto Fognini che faceva in questo periodo di quarantena le volée, tipo nel giardino, ed era bravo uguale. Cioè, non lo so io, quando uno c'ha il braccio dorato, c'ha il braccio dorato, non c'è niente da fare adesso. Sì, certo. Voglio dire, in giardino, comunque, magari rischio di diventare bravo anch'io, ecco, voglio dire, nel senso che è un po' più facile per lui. Non la faceva con la pennetta, mi pare, no? Con la pennetta, con la pennetta, è vero. Con la pennetta, sì. Si sta allenando la pennetta. Chissà che uno ritorni a giocare qualche torneo. Senti, Corrado, qua in chat ovviamente ti fanno mille saluti, insomma, ti fanno mille messaggi di complimenti per tutto quanto. E subito ho visto, che mi ha colpito anche a me, subito è uscito un commento dicendo, di Alessio Simola, guarda, lo faccio vedere. Partiamo subito bene. Racconta di quell'infame di Conor a Flash in Middles. Allora, aspetta, perché mentre ti aspettavo, io stavo guardando un po' di video di YouTube, no? Tuoi, insomma, del passato. Allora, ho trovato video del 77. Dimmi quanto è un brutto ricordo quella semi con Conor, o quanto posso evocarla? Se no mi fermo subito. No, no, no. È assolutamente un bellissimo ricordo. È stata la mia prima semifinale di uno slam. Poi ero giovane e è stata una semifinale inaspettata, nel senso che sono andato a giocare questo torneo con un tabellone difficile, non ero testa di serie e quindi sono arrivato quella semifinale. Poi dopo c'è stato quell'episodio non carino, ecco, da parte di Jimmy Conor. Tutti poi mi dicono, ma Jimmy Conor è uno scorretto, è uno di qua, è uno di là. Poi, voglio dire, in America questo video gira da anni e anni e anni. Ma cosa è successo? E adesso ancora mi fermano, mi fermano e mi dicono, ho visto, perché tutti gli anni durante Flash in Midos lo rimandano questo video, per cui non lo so quante visualizzazioni ha avuto e quindi tutti mi chiedono, ma Conor come è potuto fare una cosa di questo genere? come si è permesso... Scusami, scusa Corrado, ma cos'era successo? Perché io in realtà ho recuperato un pezzo, adesso, dove gli cade la racchetta, batte, gli cade la racchetta e la recupera, alla fine. Sì, no, questo è un altro, sì, è una, credo, una fase della partita, ma di fatto, questo è un video... Questo te lo faccio vedere intanto mentre siamo qua, che mi sembra fortissimo, e poi non so, c'è il commentatore inglese che dice, dopo, dopo questa, dopo questo punto, vedi che ha raccolto la racchetta e... Sì, sì, ha raccorto la racchetta, sì. Ma tu te ne hai riaccorto quando gli è caduta la racchetta? Beh, no, perché gli è caduta la racchetta, ma io ero con gli occhi sulla palla, per cui stavo colpendo e quindi non me ne sono accorto. E vabbè, lui poi ha continuato a giocare, ha fatto anche il punto. Ecco, di fatto... E poi qua il commentatore dice, Corrado sta dicendo qualcosa alla mamma di Connors, ma parla italiano, ma che cosa? Sì, qui non mi ricordo, ma poi non lo so perché avrei dovuto parlare con la mamma di Connors, ma questo non lo so, probabilmente non lo so, mi stavo lamentando di qualche cosa, adesso non mi ricordo cosa, ma la madre di Connors parla italiano, non lo so. Una scena meravigliosa, infatti ho detto, io lo devo chiedere, perché sono quelle, leggere metropolitane. Ma e perché è rimasta così impressa? Perché Connors era stato cattivo? No, non è questo il video dove si vede, diciamo, la scorrettezza di Connors. La scorrettezza di Connors è stata che durante, cosa è successo? Uno scambio, momento anche importante della partita, gioca un dritto, diciamo, sulla mia parte del rovescio, sulla riga, diciamo, laterale, esterna, quindi larga, e l'arbitro la chiama buona. Era un momento abbastanza, come dire, delicato, perché ero 2-7-0, ma potevo andare in vantaggio al terzo set, non so se potevo andare 5-3, adesso non mi ricordo bene, ma era un momento abbastanza delicato, e in quel momento lì l'arbitro chiama la palla buona, io segno la palla con il solito, sai, come si fa con la racchetta, faccio il segno intorno alla palla, mi giro verso il giudice di linea e quindi do le spalle a Jimmy Connors, che è dall'altra parte della rete, e chiedo al giudice di linea di venire a fare il check, a controllare il segno che gli ho marcato, insomma, in pratica, e la palla era fuori. Mentre sto parlando, io questo dopo l'ho rivisto nel video, naturalmente, perché non ne sono accorto, mentre sto parlando con il giudice di linea, mi vedo passare davanti così, davanti, mi passa davanti a me Jimmy Connors, passa con il piede sul segno, cancella il segno e se ne ritorna dall'altra parte del campo. Che bastardo! Per cui io lo guardo, basito, perché chiaramente non potevo crederci, tra altre cose, allora come adesso non era assolutamente permesso di poter attraversare il campo, non so neanche se, voglio dire, era soggetto a una squalifica, ma insomma non era ammissibile, poi addirittura cancellarti il segno, capisci che insomma è stata una scorrettezza. Dopodiché io sono andato dal giudice di sedia e gli ho detto, scusa, ma ha fatto una cosa che non può fare, quindi prendi un provvedimento, lui mi pare che si limitò a dire, Mr. Connors queste cose, lei ha fatto una cosa che non si può fare, non si fanno queste cose, la storia è finita lì, però in America è stato considerato in una classifica di errori, di scorrettezza o di errore, uno dei cinque errori più gravi della storia del tennis, quella di comunque di non aver preso credo un provvedimento nei confronti di Jimmy Connors. Però era proprio, ho capito, quella era la scorrettezza, però Connors diciamo, io vabbè lo vedevo da bambino, mi ricordo, ed era sempre un po' ti dava sempre questa sensazione di essere molto arcigno, mettiamola così, non so che parola trovare, ecco, in campo insomma non era proprio toccino. No, non è mai stato, come dire, socievole, non ha mai curato, voglio dire, i suoi rapporti con gli altri giocatori, non è mai stato simpatico, si comportava anche qualche volta in maniera scorretta dentro il campo, però io da giocatore ho sempre avuto una grande stima, una grande ammirazione per Jimmy Connors, perché Jimmy Connors è l'essenza del gradiatore, del lottatore, del giocatore che non lascia mai un punto, del giocatore che non molla mai una partita, cioè voglio dire, è sicuramente uno dei migliori esempi, secondo me, come giocatore, non voglio entrare nel, voglio dire, quello che può essere il personale, la persona, quelli sono problemi suoi, ma come giocatore, come giocatore, un combattente, sempre ha avuto, io ho sempre, e anche adesso sono avuto una vera grande stima e ammirazione per Jimmy Connors, che per me è stato uno dei più grandi giocatori mai esistiti di tutti i tempi, quindi la gente mi dice, ah ma, parolacce, eccetera, e dico sì, beh, avete ragione, nel senso che si è comportato male, però insomma, voglio dire, è un giocatore da, come dire, da rispettare per come, voglio dire, lui esprime, esprime proprio, voglio dire, la caratteristica del giocatore, lottatore, del giocatore, come dire, che si comporta dentro il campo nel modo giusto, insomma, combatte, e lotta e non molla mai. Qua, peraltro, ti dicono subito, grande capitano, te lo faccio vedere, Andrea De Monte, grande capitano, perché era diverso, in effetti, era diverso anche il periodo storico, anche guardando quel video, peraltro la gente era praticamente seduta a bordo campo, che oggi non è più così, c'è molto più spazio, invece ce li avevi proprio intorno anche al pubblico? Sì, sì, diciamo che sono cambiati un pochino gli stadi, sono diventati anche più grandi, poi ci sono anche dei, voglio dire, dei tornei, per esempio Roma, Roma è un torneo, per dire che le tribune sono molto vicine, insomma, ai giocatori, dipende un po' anche dalla tipologia dello stadio, però, insomma, sì, quello era Forest Hill, si giocava Forest Hill, che era questo circolo importantissimo allora, e in realtà lì c'erano tre campi da tennis, o due o tre campi da tennis in questo spazio, e per le semifinali ne fecero diventare uno solo, mi pare, e quindi sì, c'erano effettivamente dei palchi che erano molto vicini, quindi era molto, di grande soddisfazione, insomma, per chi vedeva la partita, perché veramente, diciamo, poteva vedere molto bene i giocatori. Ci sono nei commenti, ho già visto uscire un paio di persone che ti chiedono di raccontare quando hai giocato con Borghe e hai perso malamente, però hai finito e hai detto grazie per la lezione di tennis, è leggenda o verità? No, 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 è vero, è vero, non gli ho detto grazie per la lezione di tennis, però quell'anno, adesso ti racconto un po' come era, diciamo, il mio stato d'animo quell'anno lì e il perché poi, voglio dire, ci sono rimasto così male in realtà, quell'anno lì ero uno dei migliori giocatori del mondo sulla terra battuta e avevo in cuor mio la speranza di poter fare un grosso risultato a Roland Garros, cioè pensavo di poterlo vincere, insomma, ero uno dei giocatori che aveva, almeno nel mio cuore c'era questa speranza, ma insomma, al di là, insomma, ma non perché fosse una speranza campata per aria, perché i risultati erano confortanti, venivo da un periodo che giocavo molto bene, battevo praticamente quasi tutti sulla terra, quindi volevo poi fortemente fare un risultato a Roland Garros. E Borghe, effettivamente, che ho trovato sempre nella mia strada, dalla mia parte del tabellone a Roland Garros e, insomma, me lo sono ritrovato in semifinale. E sono arrivato in semifinale battendo nei quarti di finale uno dei giocatori più forti del mondo, allora, sulla terra, che era Eddie Dips e lo battei 3-7 a 0 in semifinale, per cui, insomma, vuol dire, un risultato importante, molto... Sì, esatto, sono arrivato a carico, per cui mi ricordo che per la semifinale venne a vedere questo, diciamo, questa semifinale Mario Belardinelli, che allora era il nostro allenatore, era il nostro, era il direttore tecnico del centro di Formia, dove ci allenevamo, insomma, è stato un pochino, un po' il papà, l'allenatore di tutti noi, di tutto quello che ha, diciamo, creato la squadra di Coppa Davis, che ha scoperto e che ha formato Panatta, Bertolucci, quindi, insomma, è venuto giù perché, insomma, voleva sostenermi e con lui, il giorno prima, insomma, parliamo di questa partita, dobbiamo fare così, allora faccio così e dico, guarda, signor Belardinelli, le giuro stavolta, stavolta l'ho fatto, stavolta l'ho fatto. Questo glielo dissi mentre entravo nel tunnel, mentre entravo nel tunnel, poi glielo ridissi, mi pare, mentre entravo nel tunnel, negli spogliatoi, e per entrare nel campo centrale, io dico, se lo prenderai questa volta robato, entrai in campo e cominciai a giocare questa partita, giocavo bene, cominciai a giocare, un po' da lungo, da lungo, destra, sinistra, io non sbagliavo, lui non sbagliava, lui non sbagliava, non sbagliava, insomma, lui giocava veramente molto bene, io non riuscivo, non riuscivo a trovare, come dire, proprio la chiave di volto di questa partita, per cui questa partita a un certo punto mi rendo conto, mi rendo conto che non riesco a vincere questa partita, però dentro di me dico, va bene, senti, non, voglio dire, non vinco questa partita, però non te la regalo, cioè io sto in campo, tutti i punti li gioco, tutti i punti, li vuoi, li vuoi vincere, li devi vincere, mi devi fare i punti, perché io non ti regalo niente, e giochiamo per tre ore, prendo 6-0, 6-1, 6-0, tre ore abbiamo giocato, per lui tutti i punti, tutti i punti tiratissimi, alla fine li faceva tutto lì, alla fine ero nero naturalmente, cioè l'avrei fatto a pezzettini, giuro che lo fai, e a denti stretti quando gli ho dato la mano gli ho detto, bravo Bjorn, dico scusa se ti ho portato via un game, per cui scusa mi dispiace di aver ti portato via un game, poi dopo in una sua intervista Bjorn disse che quella partita con me è stata la migliore partita, una delle migliori partite della sua vita, perché giocavo molto molto bene, è peccato, è peccato che era proprio con te, però d'altronde prendi a volte dei giocatori che in quel momento hanno il loro apice, pensa che io una volta ero il favorito per vincere il titolo italiano di seconda categoria, ero un ragazzino in crescita, e in finale incontro questo giocatore che era ancora più giovane di me ed era esploso in quel torneo, e io mi ricorderò sempre che in quella partita con me lui è diventato un'altra categoria, cioè ha vinto, io ho perso, me le ha schiacciate tutte in faccia, e in quel momento lui è salito di livello, è incredibile come alcuni giocatori in un certo momento prendono consapevolezza e poi... Ci sono dei giocatori, sì, in questo caso diciamo che Borg era il più forte giocatore del mondo in quel momento, quindi era difficile batterlo per me effettivamente, io ci credevo, poi alla fine finale batte Villas mi pare 6-2, 6-1, 6-2, 6-0, 6-1, per cui non ce n'era per nessuno, ecco, in quel momento lui ha giocato particolarmente bene ed è stato un come dire, un risultato molto severo, ecco, per una semifinale, molto molto severo, però insomma voglio dire, per me era difficile batterlo effettivamente, perché poi come tipologia di gioco eravamo molto simili, ma lui era molto più forte di me, quindi... Siete ancora in contatto, perché lui poi ha avuto, insomma, vicende alterne nella sua vita personale, professionale, siete ancora in contatto? Lo vedo, ci vediamo in giro per i tornei ogni tanto, sì, lo vediamo, ci abbracciamo, poi insomma voglio dire, lui è uno molto simpatico, mi piace molto Biorno, è sempre stato molto simpatico, anche prima, quando... in realtà non è cambiato, cioè nel campo da tennis è sempre stato, come dire, un giocatore apparentemente di ghiaccio, no? Non dava, come dire, non dava segni di vita dentro il campo, giocava, non guardava nessuno, non si lamentava e quindi sembrava proprio così senza emozioni. In realtà poi fuori dal campo è sempre stato un ragazzo molto simpatico, voglio dire che gli piaceva divertirsi, stava in gruppo, rideva, scherzava, insomma un ragazzo con il quale si sta molto bene, ecco. Forte. Sempre stato... sì, sì, sì. Diverto anche rispetto a come sembrava. Elvis de Memphis ti chiede da Facebook, sono stato presente, scusa, in realtà è una considerazione che fa, ma è curiosa, sono stato presente la tua partita di Davis del 79 Italia verso Ciecoslovacchia e dopo la tua esibizione strepitosa contro Ivan Lendel, che immagino il 79 fosse un ragazzino, perché il 79 io ci avevo... Sì, era già... era ragazzino, ma già abbastanza... Ma era già tosto. Sì, sì. Poi giocavamo a casa loro, sì. Esatto. E diceva, hai iniziato a fare scuola di tennis e ho adottato il tuo schema di fondocampo. Grande, quindi hai influenzato... Hai visto fatto prosperità. Sì, sì, quella è stata la finale, la finale di Coppa Davis, una delle nostre finali di Coppa Davis persa contro... poi questa contro la Ciecoslovacchia. Ma lui, Corrado, Ivan è stato il primo a cominciare a approcciare in modo molto professionale la preparazione atletica, l'alimentazione, o prima di lui già c'era qualcuno che era così diciamo metodico rispetto alla preparazione complessiva? Allora, guarda, il fatto di prepararsi in maniera metodica, in maniera scientifica, se vuoi, no, anche, è sempre successo nelle varie ere con, voglio dire, la scienza di allora, con la metodologia di allora. Il problema è di allenarsi con attenzione, senza lasciare nulla al caso, allenarsi nel modo giusto, allenarsi, secondo me, nelle quantità giuste. È sempre stato un fatto personale, non, come dire, un metodo. Cioè, voglio dire, quello di... Allora, non è che ai miei tempi io non mi allenassi, anzi, forse se devo dirla tutta, c'è qualcuno che ancora adesso non arriva neanche... cioè, non arriva agli allenamenti che io facevo allora. Ma allora, come adesso, ci sono giocatori che si allenano di più e che sono molto più attenti alla tecnologia, alla scienza, che sono molto più attenti all'alimentazione, ok? Che sono molto più attenti alle statistiche, che non lasciano nulla al caso e altri che invece, voglio dire, si allenano poco, danno meno importanza, voglio dire, alle statistiche, mangiano senza preoccuparsi troppo. È un fatto, voglio dire, di disciplina, di disciplina sportiva, di autodisciplina, perché le regole degli allenamenti, secondo me, sono sempre state uguali. Prendiamo un atleta come Mennea, che io, quando ero a Formia, dove c'era il nostro centro tecnico di allenamento, che è stato, che è anche ancora adesso al centro tecnico, voglio dire, di allenamento dell'atletica leggera, allora venivano campioni da tutto il mondo, e io ero ragazzino e mi allenavo come un pazzo, mi allenavo veramente come un pazzo, ma veramente tanto, e mi allenavo sulla pista di atletica, in un periodo in cui avevo bisogno di fare atletica, e vedevo questo giovane come me, che correva, si alzava, al mattino cominciava a togliersi il primo strato di tuta, dopo dieci minuti un secondo strato di tuta, dopo venti minuti un altro terzo strato di tuta, e lavorava, lavorava, lavorava mattina e sera, e poi si richiudeva dentro la sua stanzetta, e poi ritornava fuori e si allenava, e si allenava e basta. Era magrolino, gracilino, e poi è diventato una leggenda fenomeno, certo. Del mondo dello sport, ha fatto dei risultati, dei risultati, voglio dire, in campo dell'atletica, lo sappiamo, 200, 100, che non lo so, voglio dire, non sono rimasti lì per anni, 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 considerando, considerando che lui non ha mai avuto il fisico di Bolt, ma però è sempre stato uno che si allenava con un allenatore come Vittori che lo faceva allenare seguendo, voglio dire, delle tabelle di allenamento che Mennea era uno dei pochi in grado di seguire, gli altri si spaccavano, si rompevano per strada. Per più, è sempre stata una scelta, una scelta, voglio dire, allenarsi bene o allenarsi male. E allora, secondo me, ci si poteva allenare bene come adesso, con, naturalmente, con tutte le conoscenze in più che si hanno adesso rispetto a prima. Certo, certo. E poi forse voi avevate, diciamo, molto meno supporto in generale. Oggi magari c'è il team complessivo che ti supporta, ti aiuta e c'è magari dieci persone intorno, ognuno specializzato in un settore e magari ai tempi eravate più soli con l'allenatore. Guarda, voglio dire, anche se parlo per esperienza personale, perché poi la gente si immagina che vivevamo dentro le caverne o ci allenavamo, voglio dire, in un campo, voglio dire, sulla montagna, in realtà noi stavamo nel centro tecnico più importante d'Europa, perché vi ripeto, allora veniva Bordov, Fiasconaro, non so se ti ricordi, ma insomma, voglio dire, Bordov è stato uno degli atleti sui 100 metri russi più forti del mondo, voglio dire, Fiasconaro mi pare che facesse i 1.500, quindi gente, atleti che venivano da tutto il mondo in uno dei centri tecnici di atletica leggera, dove c'erano anche i campi da tennis, più avanzato al mondo. E per quanto mi riguarda, faccio il mio caso, io avevo un preparatore atletico che si occupava della parte inferiore del mio corpo, quindi gambe, piedi, eccetera, quindi velocità, potenza, resistenza specifica, agilità, reattività, e poi avevo un preparatore atletico che si preoccupava della forza, quindi della parte superiore, quindi io avevo due programmi e due allenatori. In più avevo un allenatore, Mario Belardinelli, sul campo da tennis che si preoccupava, voglio dire, di darmi tutte indicazioni per quello che riguardava la tecnica con una sala dove facevamo, allora c'erano le macchinette quelle che riprendevano i filmini così, che si preoccupava di rifarmi vedere i colpi, in modo particolare il servizio, a ralenti, no? Vuol dire fotogramma per fotogramma per farmi vedere dove sbagliavo. Poi dopodiché andavamo all'acqua cetosa dove ci facevano tutti i test, famosa maschera, tappi roulant, resistenza per vedere quanto ossigenavamo nei polmoni, eccetera, eccetera, controllavano tutti i nostri dati e poi avevamo anche uno psicologo che, non so, ci faceva delle domande, cercava di capire se eravamo... Training mentale, insomma. Esatto. E un nutrizionista. Caspita, beh, insomma era un team già moderno rispetto a... Non avevamo... Con conoscenze semplicemente diverse rispetto al momento storico. Esatto, le conoscenze erano quelle, poi naturalmente l'acqua cetosa è rimasto perché continua a lavorare, è lo studio, la medicina dello sport del CONI, quindi continuano a lavorare, continuano a sperimentare e le conoscenze probabilmente sono diverse, sono migliorate, hanno altre informazioni da dare ai nostri atleti e come dire... E quindi l'unica cosa, ecco, che volevo dire è questa, che a differenza di allora non c'erano tanti coach che giravano. Adesso ci sono tanti coach, cioè tutti i giocatori hanno un coach in realtà che segue il giocatore durante i tornei, che questa è una cosa buona sicuramente, perché in questa maniera voglio dire il giocatore è seguito, è comunque accompagnato negli allenamenti, per cui c'è sempre un progetto, un programma per lui che viene seguito. Ecco, devo dire che magari c'è qualche giocatore che ne ha più bisogno e magari qualche giocatore che ne ha meno bisogno, ecco. Chiaro, chiaro, chiaro. C'era, a proposito di allenatori, dimmi cosa ne pensi, una volta senti quest'allenatore slavo di ping pong che disse ci sono quattro categorie di allenatori, gli allenatori, in cima alla lista ci sono quelli bravissimi che fanno tantissimo, poi ci sono quelli bravissimi che fanno poco, poi ci sono quelli incapaci che fanno poco e o non fanno niente, e i peggiori sono quelli incapaci che fanno tantissimo, no? E questo è un problema che spesso c'è, perché dici, sì, ci sono magari tanti allenatori, ma se uno lo capisce un cazzo non è il massimo. Qual è il livello oggi, secondo te, di conoscenza ecotennistica degli allenatori in Italia? È un buon livello? Diciamo che in Italia, sì, secondo me adesso credo che anche, voglio dire, i risultati che noi abbiamo, i risultati che abbiamo in campo, voglio dire, maschile, che abbiamo avuto poi in campo femminile, siano anche grazie, voglio dire, a allenatori che sono vicini ai nostri giocatori, ai nostri anche giovani, e che sono diventati molto più, come dire, esperti, sono diventati più capaci, hanno acquisito un sacco di informazioni, si sono fatti un sacco di esperienza, per cui sono sicuramente allenatori che danno un grande contributo, insomma, alla crescita dei giocatori e anche dei nostri giovani. E questo, secondo me, l'ho già detto, supportato anche da una federazione, perché noi abbiamo una federazione, la nostra federazione italiana tennis, in questo momento è una federazione che è molto, diciamo, vicino sia ai giocatori che ai coach, naturalmente, per dargli, diciamo, il massimo dei servizi per poter farli giocare bene, insomma, per poter far sì che loro abbiano dei risultati. Però, devo dire che questa è una sinergia che sta funzionando molto bene, ma i coach sono sicuramente adesso un grande valore aggiunto, voglio dire, nel nostro tennis italiano, come, devo dire, insomma, anche le scuole tennis e maestri, insomma, poi è un, come dire, è un indotto, no? Da, se lavorano bene le scuole tennis, si crea una base più larga e poi da lì i maestri e poi i coach, insieme alla federazione, insomma, poi possono dare un contributo importante. È un lavoro di insieme. Corrado, in chat vedo un sacco di persone che sono curioso di avere la tua opinione sui giovani talenti italiani. Ho avuto, peraltro, Yannick Sinner a chiacchierare con Riccardo. Come siamo messi, ecco? Come li vedi, gli sbarbati odierni alle loro prospettive. Benissimo, insomma, credo che l'Italia abbia tra i giovani più importanti e più interessanti del mondo. Va bene, Sinner lo conoscono tutti. Musetti, insomma, voglio dire, insieme a Sinner, secondo me, sono Musetti e Sinner. Poi ce ne sono altri, naturalmente, Zeppieri e poi andando indietro altri ancora. Adesso non faccio tutti i nomi perché poi dopo magari mi dimentico qualcuno e qualcuno poi si arrabbia. Adesso parlando in modo particolare dei due giocatori che sono quelli che stanno facendo più risultati, a partire da Sinner, perché sono un ragazzo che ha 18 anni e l'altro ne ha uno 19 e l'altro 18. Insomma, Sinner è già una stella, è già un predestinato, sembrerebbe, quindi con tutti i risultati che ha fatto. E subito lì attaccato c'è Musetti, un altro giocatore che ha un potenziale altissimo e sono due giocatori che già, insomma, si sono distinti, ecco, e sono già tutti sotto i riflettori di tutto il tennis internazionale. Dici della tua esperienza da capitano e da, diciamo, da gestore di giocatori? Perché io ho visto spesso in tanti sport diversi ottimi giocatori che poi hanno provato a mettersi ad allenare e... No, dici no, ma non è proprio il tuo mestiere, invece tu stai riuscito a fare questa ottima transizione che non è banale perché devi gestire anche, magari, gli scazzi del giocatore, la psicologia, gli equilibri tra di loro, insomma, è un mestiere molto complesso, ecco. Come l'hai affrontato e quali sono ad oggi, diciamo, le tue principali... Ho cercato, intanto, probabilmente, non lo so, nel mio caso, in modo particolare, è stato un pochino più facile, no, diciamo, non più facile, però avevo le idee abbastanza chiare quando sono diventato capitano, ma questo perché, perché, voglio dire, venivo da una carriera come giocatore, come professionista, per cui immaginavo quali potessero essere le esigenze di un giocatore, perché io stesso, voglio dire, essendo stato un giocatore, avevo avuto le stesse problematiche. E poi, allora, quando sono diventato capitano, c'era stato un cambio, voglio dire, della guardia, di tutto il Consiglio federale del Presidente, per cui un Presidente nuovo, consiglieri nuovi e una federazione che voleva cambiare un pochettino il volto, l'immagine, cercando di avere, voglio dire, un rapporto migliore sia con i giocatori sia con il tennis italiano rispetto a quella di prima. Quindi, l'idea è stata quella di cominciare, come dire, ad avere un rapporto paritario con i giocatori. Io non mi sono presentato come, voglio dire, capitano di compadere, esatto, ma ho cercato di mettermi assolutamente sul loro stesso piano, cercando di capire quali erano le loro problematiche, cercando di andare incontro. Poi, naturalmente, all'inizio ci sono stati grossi problemi, perché, voglio dire, venendo da una vecchia gestione, c'era una serie, c'era una grande accredine nei confronti, voglio dire, dei federali e di tutti quelli che lavoravano per la federazione. Nel senso, fino a quando sono stato fuori dalla federazione, andavo bene a tutti. Nel momento in cui sono entrato in federazione, era diventato uno stronzo. Per cui, allora, anche quello è stato un muro che ho dovuto abbattere. Nel senso, guardate, posso anche essere stronzo, ma non voglio fare lo stronzo con voi. Cioè, voglio cercare di aiutarvi e cercare di arrivare, voglio dire, a una situazione la quale la federazione diventa per voi un aiuto, diventa un servizio. questo. Per cui, anche, come dire, una certa empatia, non so, vedere le cose, soprattutto come le vedono. Io lo dico sempre. Bisogna sempre mettersi nei panni degli altri, cercare di vedere le cose come le vedono gli altri. In questa maniera, dal mio punto di vista, è un po' più facile, come dire, prendere delle decisioni oppure risolvere le situazioni. perché se noi rimaniamo sempre, voglio dire, dal nostro punto di vista, alla fine, alla fine non si rimane, si rimane, voglio dire, sempre distanti. Cercare, insomma, invece di vedere, appunto, di capire come gli altri vedono le cose. Diciamo che mi sono messo a disposizione cercando di fare, soprattutto, di ottenere il loro rispetto, la loro amicizia, naturalmente, e quindi di poter far sì che, per dire nel mio caso, il progetto Coppa Davis diventasse un progetto anche loro. Non un progetto mio, non un progetto della federazione, ma il progetto di un gruppo di giocatori, cioè di tutti quei giocatori che credono nella nazionale, di tutti quei giocatori che hanno dei principi o dei valori, come li ho sempre avuti io. Io ho giocato la Davis sempre, in tutte le maniere, tutte le volte che me l'hanno chiesto. Mi sono anche sacrificato qualche volta perché non stavo bene. Cioè, cercando di, come dire, far trasparire questo spirito, voglio dire, questo principio e anche dicendo, guardate, se qualcuno di voi non vuole giocare in Coppa Davis, bene, non gioca, perché in Davis e la Davis è una gara diversa da tutte le altre. È una gara dove non si vince solo con la tecnica, col fisico, ma si vince col cuore, per cui bisogna crederci. Cioè, bisogna veramente, bisogna veramente andare oltre se si vogliono vincere delle partite. E allora, e soprattutto, ho sempre detto, dovete fare vostro questo progetto, la Davis è vostra, la Davis è dei giocatori. Quindi giocatela per voi stessi e io mi metto nelle condizioni di darvi tutto. Di farlo al meglio. Come funziona Corrado? Come funziona Corrado il dietro le quinte di un match di Davis? Cioè, tu fai delle convocazioni in un certo periodo dell'anno e dici, allora, io convoco, non so, questi sei giocatori, per dire, dieci giocatori, una rosa di giocatori. Hai già un palinsesto, diciamo, dei dodici mesi, oppure è di gara in gara? Quanto tempo hanno poi i giocatori per accettare o meno? Perché magari, appunto, uno, che cazzo ne so, potrebbero accettare per minimi motivi. Potrebbero non accettare, certo, per minimi motivi, certo. No, normalmente... Scusa, un aspetto importante, ne parlavo anche con Gallinari e Bellinelli, per il basket, loro hanno spesso il problema, che giocano nell'NBA, vengono convocati in nazionale e devono bilanciare mille problematiche col club, gli impegni. A volte un giocatore, non è che, no, non gioca in nazionale perché è bastardo, ma magari perché c'ha oggettivamente mille pressioni, mille impegni. Perché, certo, ma sì, esattamente come giocatore di tennis. Ma comunque, normalmente, io ho un programma di, come dire, che riguarda tutto l'anno, per cui seguo un certo numero di tornei durante l'anno, in modo da seguire i giocatori, di tenere i contatti con loro. Adesso parte poi che seguo anche Fabio Fognini, quindi gli do un servizio come coach e come allenatore. Però diciamo che io li seguo per un certo numero... Come immagini con Rado, scusa, come immagini con Rado in chat, la domanda principale è come fai a gestire Fognini? Chiusa parentesi, insomma, poi ce lo spieghi, ce lo dici, perché è talmente fenomenale, ma quando sbrocca, sbrocca, ecco. Sì, però dai, diciamo che fortunatamente ha dei momenti che, come si dice, sbrocca, però non sono tanti. Però comunque, per ritornare a, diciamo, la Davis, io faccio un progetto di, non so, un certo numero di tornei durante l'anno. Io vado con, seguo i giocatori durante i tornei, questo è il modo naturalmente da tenere i contatti, stare con loro, mi confronto con, diciamo, i loro coach, quindi parliamo delle problematiche, ci scambiamo informazioni, quindi questa è una cosa che tra l'altro mi ha fatto anche molto crescere in tutti questi anni, perché io ho un, diciamo, un percorso come allenatore, perché ho avuto un centro tecnico per, un mio centro di allenamento per tanti anni, ho allenato anche giocatori di un certo livello, ma insomma il fatto di confrontarmi, tutti questi anni mi è servito, insomma, mi ha fatto crescere professionalmente. Quindi ci scambiamo informazioni sui giocatori, consigli, eccetera, vado a vederli giocare, sto con i loro coach, sto con loro e poi, e poi naturalmente, questo naturalmente mi serve per poter dare poi, come dire, delle valutazioni sui giocatori che dovrò convocare, diciamo la rosa è di, mi pare, 9-10 giocatori, una rosa di Coppa Davis e normalmente, normalmente, adesso ci sono delle regole nuove, perché sai, la Coppa Davis è cambiata, per dire, adesso noi saremo, siamo in finale e insomma speriamo di giocare a Madrid, ma un mese prima di Madrid dovrò dare una, dovrò dare la formazione che è di 5 giocatori. Quindi io guardo, insomma, valuto, diciamo, i giocatori durante tutti questi tornei e un mese primo, nel caso di Madrid, convoco 5 giocatori, 5 giocatori che quelli che io ritengo più adatti per giocare, diciamo, la finale di Madrid. Contro questi tornei. Esatto, nel caso invece del primo turno, come quello che abbiamo giocato, diciamo che lì la convocazione deve essere fatta 10 giorni prima e quindi, voglio dire, 10 giorni prima dopo aver visto i giocatori giocare nei vari tornei e diciamo che poi anche in questo caso, insomma, convoco i giocatori, 5 giocatori che penso siano i migliori per quell'incontro. Nel caso di Madrid, invece, siccome un mese prima è tanto, veramente troppo, diciamo, c'è la possibilità come regolamento, insomma, di poter cambiare dei giocatori, mi pare una settimana, 4-5 giorni prima dell'inizio della gara. Quindi si possono cambiare. Come fai a gestire, Corrado, quando c'è il momento di dire, ok, a sto giro giochi tu, tu, tu e gli altri restano in panchina quando magari hai delle aspettative, magari hai dei giocatori che hanno delle aspettative, vogliono giocare? Eh, no, ma è lo che ho scelto. Lo gestisco, lo gestisco perché, come dire, mi impegno in modo particolare con me stesso ad essere, come dire, più attento possibile all'obiettivo. Cioè io faccio il capitano di Davis e voglio vincere partite. E quindi cerco di, come dire, di lasciare fuori il più possibile lo stato emotivo e di scegliere quelli che sono i giocatori che io ritengo i più giusti per vincere quella partita. È chiaro che quando tu stai da tanti anni con un gruppo di giocatori e diventi i loro amici, veramente, perché lo dico in maniera molto affettuosa e con molta onestà, abbiamo, ritengo almeno da parte mia, un bellissimo rapporto con i giocatori. Io sono dispiaciuto tutte le volte che non faccio giocare un giocatore piuttosto che un altro e o lascio fuori dalla squadra un giocatore e mi dispiace comunicarglielo. Però il mio compito è quello di pensare alla squadra e a pensare al risultato. E quindi cerco di rimanere, come dire, sull'obiettivo e di essere il più freddo possibile quando devo fare le scelte. Lo faccio sulla base, naturalmente, dei risultati di un certo periodo. Lo faccio sulla base, voglio dire, degli allenamenti che facciamo durante la settimana. Lo faccio anche sulla base, voglio dire, magari dei giocatori che sono dall'altra parte, sulla base delle superfici sulle quali siamo, del momento emotivo. E quindi devo fare delle scelte. Tanti elementi. Sono sempre scelte scomode. Uno non se ne rende conto di quanto un allenatore poi deve, alla fine deve scegliere, non è che può far contenti tutti. Sì, sono scelte, a volte possono essere difficili. Difficili perché, io voglio dire, lo so, perché quando sono stato lasciato fuori si sono stato male. Soprattutto quando uno pensa magari di essere stato lasciato fuori ingiustamente, che può succedere naturalmente, perché le mie valutazioni magari sono diverse da quelle che possono essere dal giocatore. Però quando io sono stato lasciato fuori una volta mi ricordo che sono rimasto male, insomma. Ma detto questo, quello che per me è importante, ho sempre detto ai ragazzi, è che io, voglio dire, le scelte che faccio sono solo scelte che hanno come riferimento, voglio dire, il risultato e la partita. Provare a vincere. Provare a vincere, esatto. Senti Corrado, ero curioso di sapere se avevi nella tua testa un aneddoto o un momento in cui una scelta tua tecnica o quella di un allenatore ha cambiato radicalmente il corso di una partita. Per caso, due giorni fa, ti faccio questo esempio, ho visto un match di ping pong ovviamente, dove c'era un giocatore danese, molto talentuoso, che in un campionato del mondo gioca contro un cinese e si giocava 3 su 5 e per 2,7 e mezzo non la prende mai. Cioè proprio, sai quelle partite che non c'è non c'è proprio match. E ad un certo punto, quasi per caso, questo giocatore in recupero alza un lob, come fosse un lob a tennis, che a ping pong non si usa tanto, no? La difesa alta, dove proprio alzi un pallonetto molto alto. E questo cinese la schiaccia fuori. E allora lì ha cominciato ad alzare palle. Ha vinto a palle alte. Cioè si è scoperto che questo cinese non sapeva schiacciare la palla alta, che è una cosa strana, perché un giocatore è come dire uno che non sa smechare, capito? Dici, ma come è possibile? Sì, sì, nel tennis succede spesso. È mai successo da allenatore o da giocatore un momento che ti ricordi particolarmente? Sia da giocatore che da allenatore. Come dire, sono quelle... Quando prima di entrare in campo, normalmente, si parla sia del tennis, di come bisogna giocare, ma si parla anche della strategia, della tattica. E quindi uno dice questo è un giocatore che magari di dritto non gioca tanto bene. sì, non è che lo faccia male, lo fa bene, però nei momenti importanti sbaglia. Poi, allora, si organizza, diciamo, una strategia di gioco, si va in campo e magari il giocatore non riesce a farla. Lui pensa e pensa di farla, no? Perché dentro il campo, quando sei dentro il campo, non ti vedi tanto. Non ti vedi tanto bene. Per cui tu continui a giocare, pensi di fare le cose giuste e tante volte è successo che, ecco, in questo caso il coach diventa molto importante, può diventare molto importante e determinante. Alcune, diciamo, come dire, suggerimenti o modifiche nel gioco del tennis possono portare a dei risultati. Per esempio, quello che tu hai detto, adesso palle alte, palle alte. È successo anche nel tennis che rallentare a un certo punto... Ci sono giocatori che sul ritmo giocano molto bene, no? E sono dei campioni e sembrano dei giocatori, come dire, invulnerabili. Pallate, boom, boom, boom. Poi magari gli comincia a fare un rovescio tagliato, una palla alta, delle palle molli, no? Come si dice. Questi cominciano a perdere un po' il ritmo e cominciano a sbagliare. Quindi è successo, è successo anche a me come giocatore, per esempio. Insomma, ed ero uno che stava molto attento la tattica e la strategia. Cioè, cercavo di giocare il mio tennis il meglio possibile, ma cercavo di capire anche qual era il modo più giusto, voglio dire, tatticamente e strategicamente di vincere delle partite. Insomma, una volta mi è capitato, per esempio, di giocare un match proprio al fuoritalico e di giocare in una certa maniera. Adesso non mi ricordo qual era la strategia, però sapevo che giocando in una certa maniera, voglio dire, avrei avuto il risultato. E per dirti, però sono arrivato, fai conto, 6-4 per lui, 1-0 per lui, 1 pari, 2-1, 2 pari, 3-2 per lui, 4-3 per lui, 4 pari, 5-4 per lui, 5 pari, quindi 6-4, 5 pari, 6-5 per lui. E pensavo che fosse giusto che continuare a giocare così, però 6 pari, tie break, 2-1, 7-6, match ball per lui. E pensavo ancora che fosse giusto. Poi alla fine, alla fine, tre punti sono andati come dicevo io, vinco il secondo sette e gli infilo 6-1 il terzo. Perché era giusto quello che stavo facendo. Certe volte però bisogna crederci fino in fondo, no? Però sì, cambiare, cambiare. Certi momenti ci possono essere delle situazioni che mettono in evidenza la debolezza del giocatore che tu non avevi mai visto in quel momento. Riccardo Gregorini, è vero, è vero. E poi da dentro non fai fatica proprio a vedere. Fai fatica a vederlo, sì. Aspetta, aspetta, Riccardo Gregorini aveva una curiosità, la tua miglior posizione in classifica come giocatore? Qual è stata la tua miglior posizione in classifica? Sette. Sette nel mondo. Sì. Aspetta, aspetta che qua sono piovute domande, domande. Ah, ecco, poi c'era una curiosità sulla scuola americana di Nick Bollettieri. Qual era la tua la tua opinione e se ci sono delle differenze rispetto ad altri approcci? Insomma... Beh, è una scuola, intanto è una scuola bellissima, super tecnologica, attrezzata, voglio dire, foresterie stupende, campi da tennis di tutti i tipi, quindi direi, insomma, sotto questo punto di vista è una cosa meravigliosa, cioè è una struttura stupenda. Questa è la struttura di McCormack che è affidata a Bollettieri. È una struttura che poi, tra le altre cose, non ha solo il tennis questa di McCormack. Ma lui è ancora attivo? Sempre abbronzatissimo, sempre attivo? Sì, abbronzatissimo, attivo, non so quanti anni ha ormai, non lo so, da 90 anni, 100 anni, mummificato, però è sempre un calone da sole. In gambissima, un uomo in gambissima. Io voglio dire, una passione per il tennis straordinaria e loro hanno anche scuola di golf, scuola di, non voglio dire, di baseball, per cui McCormack che è una nota agenzia manageriale, insomma, cerca talenti in tutto il mondo e poi li manda a tutti nella sua accademia, dove vengono seguiti da esperti, come nel caso del tennis, dove c'è una parte naturalmente che si offre al grande pubblico e quindi richiama il grande pubblico e fa grandi numeri sia di ragazzini che di adulti, perché ci sono anche tanti adulti in America che giocano a tennis. Poi c'è, diciamo, una sezione speciale per i giocatori professionisti che si vedono poco da bollettieri, li vede qualcuno ogni tanto e che vengono allenati da coach importanti e da bollettieri stessi. Sì, beh, direi, insomma, voglio dire, una super accademia. Invece, in questo momento, per te, i giocatori più interessanti in circolazione, abbiamo parlato degli italiani, però in generale, se tu dovessi dire, Monti, guarda, vai assolutamente a vederti su YouTube, questo giocatore, questa giocatrice, quali sono quelli più stimolanti per te, ecco, che quando li guardi… A me piace molto Chiappovadov, è un giocatore che mi piace moltissimo, perché ha un tennis a 360 gradi, è un giocatore ancora che non riesce a mettere ordine un pochino nel suo tennis, perché la mia impressione è che sappia fare talmente tante cose che, voglio dire, poi alla fine diventa quasi disordinato per quanto potenziale e possibilità abbia. A mio avviso, per quanto, per come piace a me il tennis, è uno dei miei giocatori preferiti, mi stupisco che, voglio dire, ancora non abbia fatto il grande salto, perché, insomma, è giovane, è molto giovane, però è un giocatore, insomma, che ha veramente un grandissimo potenziale, può giocare veramente molto molto bene. Tennis femminile, invece, che rapporto hai col tennis femminile? Che, peraltro, negli anni è cresciuto clamorosamente. Sì, beh, io sono stato capitano di Fed Cup fino a qualche anno fa, per cui, insomma, ho allenato Francesca Schiavone per tre anni, mi pare due anni e mezzo, tre anni, gli anni in cui, insomma, ha fatto quei grandissimi risultati, ha vinto Parigi, ha fatto finale, si è qualificato per il Master, per cui, insomma, con Francesca? No, dico, che rapporto hai col tennis femminile? Quanto ti, diciamo, segui il tennis femminile? No, no, ma io lo continuo a seguire, il tennis femminile, perché mi piace, perché ormai, voglio dire, sono rimasto, come dire, attaccato al tennis femminile, poi no, mi piace molto, per cui adesso ci sono queste giovani che stanno giocando molto bene, insomma, che sono fortissime, Andreesco, Lausaka, poi c'è l'Americana, che si chiama, adesso mi sfugge il nome, giovanissima anche lei, insomma, quindi ci sono un sacco di, diciamo, giocatrici interessanti, anche se devo dire che sono tutte giocatrici che hanno grande potenziale, queste ragazzine giovani, perché sono veramente giovani, però non riescono ad avere grande continuità al momento, e il fatto, per esempio, che la Williams ancora sia una delle giocatrici più forti, insomma, voglio dire, come dire, fa un po' pensare che tutto sommato, insomma, dietro ancora qualcosa di molto consistente non ci sia, ecco. Ci sono, diciamo, giovani, la Gauf, è l'americana, la Gauf, che è la più giovane di tutto, credo che abbia 16 anni, lei veramente... Cocco Gauf, quella di... Cocco Gauf, esatto, sì, è di colore. Lei è quella, diciamo, che è un'altra predestinata, sicuramente, che potrebbe diventare la nuova Williams, però diciamo che al momento quelli che hanno fatto dei grossi risultati sono la Osaka, l'Andresco, però vanno un po' a corrente alternata, l'Andresco forse un po' meno rispetto alla Osaka, però, insomma, ecco, si sta un po' ricostruendo, sta cercando un po' una connotazione nuova, insomma, il tennis femminile, che arriverà tra poco. L'altro giorno parlavo con Flavio Tranquillo, il commentatore sportivo di basket, sempre che fa le teleconiche di basket, e mi citava questo dato per il quale, non mi ricordo quale percentuale, una percentuale enorme di americani è ancora convinta che Michael Jordan sia il più forte giocatore al mondo di basket oggi, non nella storia, cioè, se oggi scende in campo, ancora sarebbe il più forte del hockey. Ancora adesso, no? Questa è la convinzione, siccome il brand Jordan è talmente forte, la gente pensa ancora a quello. Che è un po' la stessa convinzione che ho io rispetto a me e il ping pong, cioè, se tu mi dici, scendo in campo, io penso ancora di vincere con chiunque, e invece perdo con un bambino, vai cosa gioco oggi? Sono scarsissimo. È possibile. Ti viene mai voglia di tornare in campo? Prima domanda. E se torni in campo, competitivamente, intendo? E se torni in campo e giochi, ad esempio, con una di queste ragazzine, o un ragazzino, come ti vedi? Cioè, oggi, a che livello saresti? Non ti sento più. Ecco. Eccomi. Ti dicevo, Corrado. Eccomi. Ti chiedevo, Corrado, se ti viene voglia di tornare in campo, ogni tanto, competitivamente, non a fare due palleggi, e se scendi in campo, hai, come dire, se giochi con un ragazzino, o contro una ragazzina, come ti vedi? Cioè, è una partita, o non è proprio una partita? Guarda, ti dico come mi ha visto mia moglie, una volta che giocavo a te. Mi ha detto, lascia perdere. Corrado. Ti prego, mi ha detto, non mi rovinare i ricordi che avevo quando eri giovane. No, però, a parte questo, certo, voglio dire, io vorrei competere, mi piacerebbe ritornare competitivo, però, voglio dire, dovrei togliermi un po' di anni. Nel senso che la voglia di competere, quella c'è sempre. Mi piacerebbe davvero, ma, insomma, bisogna, come dire, smetterla di guardare indietro, ecco, di pensare al passato, insomma, di concentrarsi un pochino sul presente, e quelli che sono stati dei bei tempi, sono passati, ce la siamo goduta, e va bene, insomma, poi se c'è da fare una partitina con uno di questi giovani, mi alleno, e via, mi butto dentro, poi magari mi stende, però, insomma, almeno mi diverte. Io, devo essere sincero, se, l'ho sempre detto, non gioco più tantissimo, per cui, però, mi piacerebbe giocare tre, quattro volte alla settimana con qualcuno, insomma, che abbia un buon livello, e fare dei match, perché questa è una cosa che mi manca, effettivamente. Ma tra racchetta, quella che usavi tu, di legno classica, e le palette che ci sono adesso, che appena la tocchi parte un siluro, come ti trovi? Che differenza trovi? Diciamo che io, ho delle racchette, ho cercato delle racchette che si avvicinassero, si avvicinassero, voglio dire, un pochino, alle mie vecchie racchette, al legno, nel senso che non hanno esattamente quelle caratteristiche lì, ma hanno una caratteristica importante, cioè sono più attento al controllo della palla, al controllo che mi dà la racchetta sulla palla, piuttosto che alla potenza, perché una racchetta troppo potente, voglio dire, non ti dà nessun controllo, quindi, voglio dire, le palle si cominciano ad andare da tutte le parti, molto, molto forte, come dei proiettili, ci vai a caccia, ma non giochi a tennis. Ora, capisco che racchette molto potenti, soprattutto molto grandi, per chi, ingolosiscono, certo. a chi non è buono giocherà a tennis e vanno benissimo, perché uno la prende sempre, sono come le mazze da gol, le fanno sempre più grandi, ma non le fanno più grandi per i professionisti, le fanno più grandi perché, voglio dire, la palla è piccola, e nell'immaginario ti danno più fiducia a chi non è buona, perché così la palla la prendi, poi fai degli slice, fai degli hook, e non va bene, uno non se ne accordi. No, in realtà mi piace una racchetta, cioè, queste racchette di adesso sono molto meglio, assolutamente, ma, come dire, preferisco una racchetta che non sia molto, non sia potente, perché tanto la palla sono in grado ancora di spingerla, e preferisco una racchetta invece che mi dia controllo, perché il divertimento è colpire la palla e vedere che la palla va esattamente dove io chiedo, che vada. E comunque, a proposito di racchette, di legno, racchette di adesso e di potenza, parliamo di potenza, non di altre caratteristiche, perché quando si parla di racchette si parla sempre di potenza, ma non si parla di controllo, che invece è una cosa, vorrei dire, sulla quale bisognerebbe riflettere, perché, come dire, il tennis, secondo me, è un gioco di abilità, anche, perché bisogna mettere le palle dentro la riga, perché il campo da tennis non è che è stato fatto, non è un campo da baseball, cioè, non si tira sulle tribù, fuori, sono le righe, quindi. Io ho scritto anche, in passato, ho scritto degli articoli e uno degli articoli che ho scritto lo scrissi a proposito delle racchette potenti, le racchette di legno e le racchette nuove di adesso, quindi di grande potenza, e ripresi un test che fu fatto da un'azienda, ok? E lo fecero con Filippusis, so se tu lo ricordi, Filippusis, lo ricordo, tirava delle pallonate allucinanti, no? E lui, cosa fece? Gli fecero fare un test nel servizio, che è il colpo dove tu esprimi massima potenza, voglio dire, in una racchetta, no? Quindi, gli fecero fare una serie di servizi, fai conto, con la racchetta, con la sua vecchia racchetta, non so se era una head allora, quella di materiali di adesso, e poi gli diedero una buona racchetta di legno per vedere la differenza che c'era di potenza, fecero una media naturalmente, no? Una media di servizi fatti e fecero questo test e tirarono fuori questi dati, dati che io ho riportato, non è che, voglio dire, me li sono inventati. E mi pare, adesso, più o meno, sono passati tanti tempi, che lui servì a una media di 205 all'ora, mi pare, con la racchetta di, con la sua racchetta di tutti i giorni, che era questa racchetta di grafite, non so di che cos'era, un materiale sintetico e ha servito, mi pare, a 202 all'ora con la sua racchetta di legno. C'è miseria. Differenza. Certo, e poi differenza minima. Poi dopo, naturalmente, come dire, probabilmente dal basso, sicuramente, molto più, voglio dire, più maneggevole, perché più leggera, non lo so, più potenza, non lo so, tante altre cose, però questo è un test interessante, divertente. Interessante, stimolante. Come dire, rompe un po' tutti i ragionamenti. È vero, è vero, è vero. Non lo dico io, è fatto uno studio. Studio riportato. Chiudiamo ancora, poi ti lascio andare, mister secco da YouTube, a una domanda, che può essere utile, insomma, per molte persone, anche in ascolto, e dice, come è possibile gestire quel momento di una partita in cui il tuo avversario sembra avere un passo in più di te e si inizia a andare in svantaggio? Ci sono proprio giocatori che, quando iniziano a essere sotto di punteggio, hai giocatori che proprio iniziano a tracollare e altri invece che hanno questa grande tenuta mentale e rischiano sempre a ripartire. Qual è il tuo studio di me? Allora, io ho scritto un libro, no, a proposito dello stato emotivo come interferenza nel gioco del tennis e nella vita anche. Mi parla di un stato emotivo, nel senso che nel momento in cui tu pensi al risultato e sei in svantaggio, tu cominci a non stare bene perché ci sono due stati emotivi, per dire, dentro il campo da tennis che possono essere delle trappole. Uno è quando tu stai vincendo perché nel momento in cui tu vinci vai in fiducia e rischi di, come dire, non essere più attento come all'inizio, molli un attimo la guardia, dopo perdi qualche punto, ne perdi più di uno, poi vai in uno stato di panico immediatamente perché dici che sta succedendo, panico e poi dopo depressione completa e poi dopo c'è un momento in cui devi somatizzare tutto e devi ricominciare. L'altro momento nel quale tu puoi essere, voglio dire, intrapolato in uno stato emotivo è quando tu stai sotto. Per cui, quello che io consiglio, quello che io consiglio sempre è che non ci sia una manifesta superiorità dell'avversario e quindi a quel punto lì anche lo stato emotivo, voglio dire, per quanto si possa controllare non se ne può fare nulla, ma di essere sempre molto concentrati e attenti solo sul gioco del punto e non sul risultato perché il risultato porta sempre a una situazione che ti fa pensare o troppo in positivo o troppo in negativo. Invece, come si dice, bisogna stare, come dire, attenti e concentrati, come diceva Bord, punto su punto. Io penso a giocare, ogni punto per me è un 15, ogni 15 è uguale e penso al mio tennis e penso semplicemente a fare bene quello che io so fare. Mi concentro su questo. se mi si concentro su questo tutto il resto si allontana, sparisce e quindi non ci sono interferenze. Se non ci sono interferenze il rischio è che tu possa esprimere al massimo il tuo tennis e la conseguenza potrebbe essere che tu la partita la vinca. La puoi anche perdere, naturalmente, perché se l'altro gioca meglio si perde, però questa è l'unica possibilità che tu hai di esprimerti bene. Bello. Non è facile, c'era la frase solita di Phil Jackson ma di altri che dice the ring takes care of itself. L'anello si prende cura di se stesso. La vittoria si prende cura di se stesso. Perché l'eccellenza ai prossimi 5 minuti cioè quello che fai è il processo, mi concentro sul processo e poi il risultato viene. Non c'è non c'è altra possibilità di migliorare le cose se non quella di giocare meglio. Per giocare meglio bisogna stare concentrati su quello che si fa e eliminare tutto il resto. Grande. Corrado, ti ringrazio tantissimo per la chiacchierata. Se un giorno fai una convocazione della Nazionale ai problemi giocatori sappi che io arrivo da Brighton in qualunque momento in qualunque gioco io arrivo, capito? Se ti serve un problema tienimi presente. Uno che schiaccia. Esatto, uno che schiaccia. Io arriverò, arriverò con la mia racchettina, capito? Corrado, grazie davvero. Alla prossima, ciao ciao. Ciao, arrivederci. Ciao, grazie.